Ciao a tutti! Oggi vi parlo di nuovo di protettori solari. Io ho un problema costante, mi piace truccarmi e tutte le volte che metto una protezione solare e poi mi trucco, ho due risultati. O la pelle fa le palline, non funziona molto bene, oppure a metà giornata mi ritrovo con i pori intasati, la pelle oleosa, appesantita, perciò a risultato finisco col non usare i protettori solari. Ma di recente ho provato un nuovo prodotto che si chiama Biosole Lev di Adatina e mi son trovata benissimo perché è un prodotto a base d'acqua, perciò è leggerissimo e però è ricco di acido ialuronico, perciò allo stesso tempo è ricchissimo. E funziona molto bene pure in quei giorni in cui ho la pelle secca, brufoletti, piccole ferite, perché è un prodotto leggerissimo, a rapido assorbimento, perciò pure per la pelle più delicata del mondo è molto indicato. Adesso vi faccio vedere com'è nell'applicazione. Al mattino quando mi sveglio prima di tutto faccio la pulizia del viso, perciò ora vi faccio vedere com'è l'applicazione del prodotto a pelle perfettamente pulita. Una volta che ho la pelle perfettamente pulita comincio ad aprire il prodotto su tutta la faccia e anche sul collo per avere una buona protezione. Una cosa molto positiva di questo prodotto è che ha una protezione a 12 ore, perciò protegge per tutta la giornata, non è necessario ripassarlo più volte sulla pelle. È un prodotto che oltre a proteggere dal sole previene dall'invecchiamento perché contiene l'acqua di recuare terme, che è un'acqua termale delle Alpi del nord Italia. Contiene il difendi Ox, che ha 14 polifenoli e l'acido ialuronico, che ha un potere anti-invecchiamento potentissimo. Inoltre è un prodotto ipoallergenico, perciò è consigliatissimo a tutte le persone che hanno una pelle molto sensibile. Priviene dalle macchie, le rughe, l'acidità della pelle, oltre a proteggere contro i raggi UVA e UVB. Io uso questo prodotto ormai da due settimane ed è evidente che la pelle è molto più compatta, riduce i segni d'espressione, oltre a difendere dalla luce del sole, perciò lo consiglio tantissimo. Inoltre è un prodotto che non testa i prodotti sugli animali, perciò a me piace particolarmente come marca, una cosa che io indico. La indicherei tantissimo, sia per la gente che ha la pelle molto grassa, pesantita, oleosa, io molto spesso ho questo problema, ma pure per chi ha la pelle sensibilissima, che rifiuta praticamente qualunque prodotto, allergica, eccetera, perché è un prodotto leggerissimo. Quindi molto consigliato. Attenzione al sole, usiamo i protettori solari. Ciao, alla prossima!